Marco, vuoi salutare qualcuno? Sì, devo salutare un po' di persone. Ma tu in giro, mi raccomando che non viene domani mattina, però tu giri in mondo, Brasile, Inghilterra, Francia. Indonesia. Allora, fermati, saluta, di cosa vuoi. Allora, saluto due persone che fanno compleanno domani, che Stefano, Leoni e la nostra amica Ambran Fossi, che è il 9 di febbraio, domani fanno gli anni, quindi vi saluterò per gli auguri. Stefano Ranucci e Simone Leoni sono due persone, amici miei, che hanno scritto un libro, che tra poco uscirà, dove io ho scritto anche una parte. Quindi, che libro è? Non posso dire nulla. Ah, non puoi dire nulla, è tutta riserva, va bene. Esatto, loro sono una controinformazione, quindi siamo un po' nel tema un po' particolare. E poi saluto la mia distribuzione, che è Resisto, no? Distribuzione Dipendente, che sta distribuendo il disco Quantistica Amando, in diversi negozi ancora vivi in Italia, perché esistono dei negozi di dischi che sopravvivono. E con noi, artisti, Oriana Sant'Agata, Marco Mori e Flavio Azzarelli, sono coloro che hanno creato questo progetto, dove anch'io sono all'interno, e supporto artisti emergenti, nella distribuzione, anche nei concerti, nelle pubblicazioni, diciamo, l'ufficio stampa. E qui viene il coraggio. Esatto. Hai finito o dobbiamo aspettare una mattina? Ok. Allora, facciamo l'applauso a Marco Gaffarelli. Certo. Grazie alle tue...